La moratoria all'apertura di nuove sedi destinate alle slot machine o altre macchinette mangiasoldi è anche una vittoria della Regione Lombardia che sta mettendo a punto una legge già approvata in giunta e ora al vaglio del Consiglio, a quanto affermato dall'assessore regionale all'urbanistica e territorio Viviana Beccalossi delegata dal Presidente Roberto Maroni come responsabile per la formulazione di questa legge. Ma restiamo in Lombardia dove ieri si è svolto un vertice interregionale tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Trento per mettere a punto un'azione coordinata per contrastare l'inquinamento atmosferico. La Lombardia è pronta ad attuare il PRIA, ovvero il Piano Regionale di Interventi sulla Qualità dell'Aria ha detto il Governatore Maroni, sottolineando però che serve agire in maniera omogenea perché l'aria non ha confine. Allora andiamo a sentire uno straccio dell'intervento in conferenza stampa proprio della Presidente Maroni a seguire un intervento del Ministro all'Ambiente Andrea Orlando, anche lui presente al vertice di ieri. Abbiamo concluso questa utile e importante riunione con il Ministro Orlando e i rappresentanti delle regioni del Nord Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, la provincia di Trento e la Valle d'Aosta su un tema di grande importanza, qual è la qualità dell'aria. Abbiamo fatto una serie di valutazioni partendo dal documento che il gruppo di lavoro delle regioni del Nord ha elaborato nel luglio dello scorso anno e prendendo una serie di valutazioni, di iniziative che ci porteranno, ma lo dirà meglio di me il Ministro, alla definizione di un accordo auspicabilmente entro breve tempo, entro un mese, per coordinare l'azione di tutela della salute pubblica con interventi delle varie regioni, coordinati tra di loro, delle regioni del Nord, tenendo conto appunto della specificità di quest'area, dell'area padana, rispetto ad altre aree. Ogni regione ha preso e sta prendendo delle iniziative. Noi siamo pronti come regione Lombardia ad attuare il PRIA, il piano regionale di interventi sulla qualità dell'aria, che però deve essere accompagnato da analoghi provvedimenti presi delle altre regioni, perché Lombardia non può mettere dei muri che impediscano all'area delle altre regioni di entrare e se questi provvedimenti sono presi solo dalla regione non è un provvedimento efficace, è utile ma non è efficace. Per questo che ho apprezzato l'iniziativa del Ministro Orlando, che sostengo, che sosteniamo tutti, perché è il segno di una importante e leale collaborazione tra istituzioni che ha come obiettivo fondamentale quello di prendere provvedimenti di tutela dei nostri cittadini, intervenendo in questo caso sulla qualità dell'aria, provvedimenti non facili, provvedimenti impegnativi che però devono essere presi e l'intesa di oggi mi pare che sblocchi una serie di blocchi che erano stati messi per mille motivi e quindi sono ottimista che il lavoro che è iniziato oggi possa concludersi rapidamente. A ottobre ci rivedremo per trasformare il piano di luglio in un vero e proprio accordo di programma. Io contemporaneamente ho anche sollecitato una riflessione da parte degli altri ministeri competenti perché ritengo che sia molto importante che ci sia un coordinamento dei diversi di casteri coinvolti e che invece non si renda conto dell'impatto delle decisioni assunte soltanto quando vengono messe in campo. Per questo ho chiesto tanto alle regioni quanto al Ministero dell'Industria, al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Agricoltura di indicare eventuali integrazioni rispetto al piano del luglio 2012 per fare in modo tale che a ottobre, se non ci sono elementi particolarmente nuovi e stravolgenti rispetto all'impostazione che era stata data, si possa appunto passare dall'elaborazione di massima ad un accordo di programma. Contemporaneamente abbiamo anche deciso insieme di promuovere un'attività politica collaterale. Qual è? Da un lato chiedere anche all'Unione Europea di riflettere complessivamente sull'impatto di questa normativa così come si sta facendo. Però io posto anche una cosa alle regioni per chiedere che in qualche modo una normativa sia modificata e è molto importante intanto dare un segnale concreto di volersi adeguare a quella che c'è. Quindi penso che sia importante che ci sia uno sforzo che va in questa direzione. La seconda azione che dobbiamo condurre e che possiamo condurre insieme è quella anche di un confronto con i grandi centri urbani perché chiaramente il tema riguarda tutta l'area padana ma ci sono diciamo delle realtà che in qualche modo sono parte importante del fenomeno e quindi è molto importante che questo coordinamento tra le regioni abbia anche un ulteriore passaggio in un confronto con le grandi realtà urbane dell'area padana. Un confronto con le parti sociali perché l'insieme dei provvedimenti che vengono proposti in quel piano sono provvedimenti che un po' cambiano la vita e un po' cambiano il modo in cui si produce in un'area. L'ultimo punto che abbiamo condiviso è quello che nell'accordo di programma che si siglerà in ottobre ci sia anche un richiamo ad un rapporto con l'università.